Siamo qua con Edo, oggi autore di 2 gol, chiediamogli un commento sulla partita. È stata una bella partita, dominata da noi dal primo minuto e ci siamo riscattati del bellissimo gol di Brioschi e poi giocando come sappiamo siamo riusciti a segnare molto. Grazie Lard, ci vediamo nel prossimo partito. Ave popolo. Allora Andrea, faccio un commento su questa partita. Beh che dire, siamo partiti male, eravamo riduci da un allenamento molto duro, una partita con la C2, siamo arrivati stanchi, siamo partiti molto male, poi a rincorrere è stato abbastanza difficile e dunque alla fine la sconfitta è stata diciamo inevitabile, purtroppo mi tocca dire queste parole. Spero che continueremo la striscia positiva come le gioventà andata e secondo me appunto questa sarà l'ultima sconfitta, almeno io me lo auguro, andremo a Roma e vinceremo perché vinceremo giustamente, giustamente vinceremo e niente, volevo salutare tutti e spero che potremo migliorare le nostre prestazioni sempre di più. Grazie Davide, grazie Anderici, vediamo le prossime partite. Grazie, ciao.